Ricetta, torta di mandorle con confettura fatta in casa Torta di mandorle con confettura Ingredienti Confettura di frutta a piacere Burro fuso, 125 g Mandorle tritate, 150 g Istruzioni Preriscaldare il forno a 180 gradi Mescolare in una ciotola le mandorle tritate con il burro fuso Stendere l'impasto di mandorle su una teglia, livellandolo con un cucchiaio o con le dita Bagnare la superficie della torta con la confettura Infornare la torta per circa 20 a 25 minuti Togliere la torta dal forno e lasciarla raffreddare Servire la torta di mandorle con confettura